programmazione estiva siamo una squadra quasi il completo ed è quasi il compleanno di samsolax ci tiene se lo dico no come dai ma cosa vogliamo fare le squadre normali la capitao edition ditemi voi niente classificate per favore la capitao edition dai così la gioia ingrati mi state dicendo no come no tu ci devi credere però se al massimo ci prendiamo il grado bronzo il grado zecchino d'oro no di noi voi il grado legno fate voi fate voi fate vobis padre che puoi dire sì o no come volete da bene differente no ragazzi non mi lasciate tutti la scelta che neanche la squadra al completo ma secondo voi qualcuno sa aggiungere cioè c'è qualche pazzo che gioca da solo alle classificate che ce lo ritroveremo e metti caso è pure un diamante di qual è la squadra più potente che non so neanche l'artifici ieri non ricordi diamante uno o diamante basta o sto cazzo offre la mano di gomma potrebbe essere lui chi volete che renda chi abbiamo trovato quello che gioca da solo che grado è che grado è non si vede il grado vediamo di valo 6 26 secondo me giocherà solo è ancora capito che cosa è la classificata ha sbagliato a cliccare ma che bella questa classificata ci posso pure giocare dal livello 1 che bel giochino in realtà fino a sbloccato il grado e che adesso sblocca dal 25 quindi proprio la prima partita di prova che dice mai ho dovuto livellare 26 livelli e adesso finalmente posso giocare che bello adesso finalmente mi potranno fare il culo mai sì che bello che bello che bello patrick e io cosa direi in queste occasioni bravo certo certo che avere una finestra dietro la telecamera è proprio il modo migliore per fare una volta tirato persino giù l'apparello dove dovevano essere chiaramente sotto vabbè ovvio nel garage e odor e frankie sai che cosa non mi piace questa cosa sto sto provando giusto e tu dici lo provi durante le classificate sì perché mi piace soffrire un po' cioè se devi subire subisci fino in fondo tutto il biscotto no è già morto ops bambino bambino santo vabbè che parla si è venuto è aperta di audio farsi cioè non vi seguo è un bambino master è un infante patrick è un bambino di livello 26 che gioca dove andiamo raga sono andate garazzo per favore arrivo arrivo luisicciuto la storia vai vai angelo vai vai patata chi è se ne ho una qua alla mia sinistra se ma tu c'è un genio scuola se ma come hai fatto c'era la destra e la sinistra ero morto ho detto ne porto uno via con me questa notte vi allarvi il buco no qualcuno tenga d'occhio che altro che esca che penso è mio ragazzi di passare avanti avete dei fumogini? torca puttana basta passarmi avanti è Twitch non è io non sono io c'è una finestra aperta qua sopra eh immaginavo beh è da qua torca puttana quanto odio Twitch cazzo otto volte che mi passa avanti uccidilo avete dei fumogini? ripeto eh no c'è una glamour io aspetta non mi ricordo se ce li ho fammi vedere no la flash ok io ho la flash basta che posso davanti io proverei ad entrare ma mi serve copertura prova vai ti sta coprendo Twitch Twitch di merda levati è piantato 4 di qua ti ha preso? no no ricarico grande angelo grazie mi ha salvato prego è la dieta grande cazzo se dovessi contare le volte che mi è andato in linea di tiro quella testa di cazzo avrei finito a mille oh stavo per sparare sempre davanti c'è una roba mmm dove ci mettiamo? modo slit? ma poi si mi fregava ah si ah sto sbagliato chi pigli? sushi io prendo lui è così dai ma si dai facciamo così tanto le trappole qui secondo me lasciano un po' il tempo che trovano a quarto giaro allora volete che vada a blindare la super cazzo ma che mi prematura si 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 dove volete le botole? blinda perché sapete che non riesco a farle tutte everywhere le volete? stanzettina principale corridoio o quella dei vini? scegli tu master quello che ti spira di più cioè così proprio a che bello cos'è scelto? stanzettina che è troppo nevralgica e qui qui sopra la motoslip sopra il ponte di baracca mi frega che ha blindato qua vabbè la flitta è qua 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 non ho preso la sacca non ho preso la sacca scosto di madrick l'op4 è locata in un bomb merda in ritardo stiamo a toccare la merda no ma perché siamo tutti dentro? eh uno dovrebbe andare fuori ma patrick aspetta c'è il mio no no sì sì ma lo sto preparando in casa adesso dover toucher io chi è che ha sparato? io perché? ci siamo in texas perché non ha parito ecco eccolo cazzo ok c'è docca heavy 1-2-3 stella 1-2-3 fuse da sopra arrivano infatti se uno fa il giro potete togliare eh hanno abbiantato fatti il giro raga uno faccio il giro qualcuno faccio il giro uno è qui però è un genio questo cazzo il camere a me ne è trippato tutte le scate vi hanno preso? merda dov'era merda eh niente questi cazzo l'avevo quasi uccisa ma non ce l'ho fatta è dalla porta comunque no cazzo no mi è venuto incontro ah poi mi ha ucciso sta stronza eh sì ho ucciso anche me aveva pochissima vita avevo sparato una marea da tutti i lati eh qui abbiamo sbagliato che nessuno è andato in giro nessuno ha detto su scelterlo sì comunque cazzo quello che ho ucciso io l'ha ucciso i tre Angelo è inciappato sul suo fucile l'ho visto non era colpa sua Sam stavo guardando il quadro ho visto era l'arte era bello io stavo buttando il mornis era veramente bello 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 come subire subisci ci vorrebbe una foca che fa avete presente che con le che applaude ogni volta che vinciamo sarebbe bello sarebbe un bel canale con la foca potresti metterlo basta che non sia il leone marino perché sennò mentre metti caso metti caso che gli venga qualche vaglia non è incredibile mentre applaudi dentro il sacchetto di noi il garage come fanno essere di noi perché hanno perso dove cambierei tattica sto giro mi aspetterebbero se li prendessimo da dietro come piace a lui sfondere comunque davanti però quando andiamo dietro cioè giusto per creare di confusione giusto per creare di capire ah se lo devono facendo lì bene concentriamo ma lo faccio loro esatto hai capito angelo cambiati mettiti da me attento alla finestra attento alle spawn kill attento ai quadri sono bene all'ago all'ago angelo come cazzo si vuole vabbè aprono sempre sta finestra non so perché se riesci angelo stai attento una motorella attento merda c'è mira ho il circuito di monza sotto casa master quindi stai monza non è attento angelo da vita serva sono le finestre aperte c'è che di stare attaccato alla parete dell'edificio si 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 ho visto visto aperta 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 qua guarda guarda la skin bello il problema del dietro è che non c'è proprio una zona dove cazzo aspetta aspetta salvate il soldato patrick mi sottolineano dai marron 5 ce l'hai sem hai vero non riesco a animarti vai fai saltare fai saltare scosto di sem sana dietro verba dove era sempre a sinistra dal maga qui dentro sono entrati ma che merda dai ho sperato in testa l'esterno aspetta che prendo dove sei master arrivo ti lascio il disinnescatore è rimasto scosto 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 sto prendendo un buchetto qua sto uscendo master è ancora vivo master sparali di nuovo e chi ha raffica quel fucile master cambia arma master no mi ha preso scusate mi ha preso ok cosa sbagliata ma perché si può mettere la raffica si davvero si non sapevo ma non è vero almeno se l'arma lo permette si lo consente non si può metterla a con l'arma no hai una pistola master scusa sono giochi ragazzi sushi le blonde facevo c'ho la rotella ho sbagliato che ti odia sono giochi come è quella rotella cucina sala trofei cucina sala trofei qui ci vuole frost cos'altro volete cazzo cano altro trappole o elettricità trappola che fatica ragazzi ma se perderemo la metteremo lo stesso questa puntata non è vero non potete saperlo se magari abbiamo perso io la metto lo stesso protect the bombs le bombe faremo la serie handicapati riprendono a giocare potrò fare la manovra spacco sopra no no troppo tardi allora sfondate però due devono star sopra due vai ok però due dove ti star sopra in due mi lascio qua il cprve ero era meglio farò alla fine con la tattica patrick non sono un perfezionista un perfezionista lui è angelo dove cazzo è qui c'è qualcosa chi non ha preso giubbotto io 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 l'ho più correso chi c'è in giro io sono sopra eh doveva esserci un altro sopra no che vado io addio ecco dove sei chiudere la porta se non la chiudevi magari tu sopravvivi e voi eravate morti ecco è lì dalla porta cazzo doc kaibi maledetta sto vendo da sopra grande master allora c'è la finestra della bomba che è ok si è cantata dalla botola cucina master è entrato dove cazzo è questa il bambino spara veramente merda è in cucina comunque tocco flash ok doc kaibi nell'altra bomba nel corridoio sono tutti lì sono tutti lì stanno piazzando vogliono piazzare stai da solo no cina che ste cazzo di telecamere ce l'avevano dappertutto sapevano benissimo dove eravamo abbiamo anche un compagno di squadra che praticamente si è avuto l'opportunità di uccidere non li ha sparato si vabbè ma è un coglione aveva messo la trappola da una parte era sotto cioè lo potevano uccidere molto prima era sotto la botola che tutti guardano come si chiama il buco per i droni cioè lì ciao lì tutti è la manna del cielo più o meno cioè lì ti uccidono subito non so neanche perché anzi è resistito tanto per essere uno infatti ancora zero zero morti guarda io lo scriviamo cosa? è inutile come una merda dai no vabbè è utile quanto non so una granata tacifista un suggestione zach play not classified sono le classified no in inglese non mi ricordo si perché in teoria questa è facile in teoria ma è una teoria molto teoria ma volete scommettere che vanno sopra faccio un cazzo vedete questi bella sera la diciamo facile cioè noi non giochiamo da mo abbiamo il bimbo hanno messo le trappole io dopo questo vado a mangiare no mangiare padeboli sono da e sei da sopra infatti non si nutrono si nutrono di pane no si nutrono di aria di forti allora vediamo se è vero quello che mi dici tu Sam no questo è ratio non ho capito dove sono master qua da noi al bar si c'è cosa c'è c'è merda sono fuori sicuro proprio dopo c'è valkyrie venire qua no posso fare un buggerne alla porta si sopra c'è qualcuno valkyrie stai sicuro si non è rossi ho fritto doc si sarà rianimato sono un coglione l'ho ucciso bra posso andare a rompere palle sopra puoi provare rompi tutta la palla che vuoi angelo bravo c'è valkyrie è ancora mio in vita ok dal vetro sopra c'è qualcuno c'è angelo ok ok valkyrie è qua io entro molto scudo dov'è valkyrie fuori dentro eh sarà sopra sta attento vista 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 ferita ho ferito ho ferita dietro al coso chi valkyrie no mira sto piazzando piazzate 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 è qua è qua no stavo piazzando alla clima ma guarda che coglioni che sono zoccola dai vai disinnescatore basta io la disinnescatore ok se tu uccidevi la uccidevo io non ti preoccupare la sagoma ne ho fatto e vabbè è un po' che lo giochiamo dai è stato bravo hai piedi hai fatto la sagoma hai preso il piedigni hai fatto la scarpa guardava piedini fa mica il piazzato dai vabbè tanto che non giochiamo non ci siamo mica comportati così male poi abbiamo il bimbo dove ci mettiamo dobbiamo mettere in cantina dai andiamo in cantina non serve fai i trappoli dai facciamo il trappolo ci sono più ostacolati qualcuno deve andare fuori vado io e qualcun altro anche se vai vado io però sono arrugginito quindi mi faranno fuori subito se devi mettere giù le trappole scusa le giacche e le cravate mettile subito giù perché se no poi vado su e vado su e poi vado giù e su e giù e trick e track e ne è un casino uno va in giro e l'altro sta nei miei paraggi però li metto qua li metto qua è vicino però fuori giacche e cravatta dove si va? location compromise plan accordingly le tratti e le ricette va bene che le metta le ricette? si hai capito insomma quello che metti sopra le botole si si sto prendendo il muro c'è un dono di merda da qualche parte che fastidio cazzo ma che lenta eh la ho sbagliato merda perché ancora non è blindato Sam ma perché non è blindato perché sono andato a fare le botole cazzo io ero andato a fare le botole una l'altra l'ho fatta io merda chi è che ha aperto? c'è la porta aperta fermo master mi ha sgamato c'è che è nell'altro bombaggio? io io sto coglione è fuori è incredibile a chiudere la porta la porta che coglione è quello sta volta si vede la porta di qua no da dove? da sopra c'è l'ion sopra e sopra dietro stanno arrivando da dietro è morto è morto è morto è morto non viva arrivo a un salto punto da sopra da sopra anche c'è non è giusto da dove dalla porta dalla porticina oh sì ho spavuto prima io in faccia c'è un drone docca a merda sta scendendo qua da metà metà se punta non ho spottato la più aiuto master c'è una qua dietro aspetta una qua dietro è una è qua no sono chiuso io master eh quelle docca a heavy quella che ha fatto a patrick mi stanno dronando mi stanno master no cazzo ma preso eh zio ne avevo uno davanti ma preso eh vabbè ero bloccato patrick ero bloccato da questo vedi è quello che poi è acceso anche te così però evitava abbiamo vinto sì abbiamo vinto complimenti oh siamo diventati diamante 1 vabbè dai ci sta tanto che non giochiamo dai patrick non ti abbatta no no per carità io vado a mangiare comunque complimenti Elias spero di non giocare più con te vai più allora noi possiamo registrarne un'altra o gli altri devono mangiare proprio gli altri io devo mangiare ok allora ci vediamo fra mezz'ora grazie a tutti